Marco Pomante, innanzitutto in bocca al lupo perché dalle giovani lì inizia una nuova avventura. Di certo non sarà un'avventura semplice quella di riportare più in alto possibile questa squadra, il Pineto. Crepe il lupo, no, non sarà semplice però è un'avventura affascinante, un'avventura che a me mi stimola tantissimo. Sono orgoglioso di allenare il Pineto, sono orgoglioso di allenare questa squadra perché è una squadra, secondo me, che ha ottimi valori e spero di essere bravo a farli riportare in campo. Visto che hai smesso gli scarpini da poco, ti chiedo che cosa Marco Pomante porterà del suo essere ancora giocatore nel ruolo di allenatore? Guarda, è normale che io, 4 mesi che alleno, 5 mesi che alleno, ho lo svantaggio di non avere tanta esperienza come allenatore. Però il vantaggio è che fino a 4-5 mesi fa ero dentro uno spogliatoio come questo dei ragazzi e quindi so come comportarmi, so come ragionano adesso i giocatori di adesso e quindi devo essere bravo io a entrare nella testa di questi ragazzi perché, l'ho detto in altre interviste, secondo me il problema principale del Pineto, da quello che ho visto nei primi giorni dell'anamento, è la mancanza. I ragazzi li vedo spenti mentalmente perché secondo me non è un problema né fisico né tecnico né tattico. Loro hanno perso fiducia in loro stessi e secondo me io devo essere bravo a farli ricredere perché, come ho detto prima, questa è una squadra forte, una squadra forte che può risalire la classifica senza problemi. Come al netto del fatto se ci sarà oppure no, come inizio non c'è male, campo basso, ammesso che si giocherà, poi c'è il notaresco, insomma il battesimo, come si suol dire, di quelli di fuoco. Sì, andiamo a affrontare una squadra forte, non ci nascondiamo, secondo me è la squadra più forte del campionato, una squadra che gioca a memoria, questo è merito dell'allenatore perché Cudini, secondo me, è uno degli allenatori più preparati di questa categoria. Sono avvantaggiati perché è una squadra che per 5-6 undicesimi già è due anni, due anni e mezzo che stanno con lo stesso allenatore, quindi è due anni che lavorano sugli stessi principi, sulla stessa metodologia di lavoro, però c'è solo da fare i complimenti al campo basso, però io ve l'ho detto ai ragazzi, non ho paura di andare al campo basso perché mi fido ciecamente di loro. Io la prima cosa che ho detto ai ragazzi, ho detto io se ho accettato questa avventura, questo compito, è perché mi fidavo dei ragazzi, se no non avrei accettato. Ti chiedo se questo organico pensi che possa essere ulteriormente modificato da qui in avanti oppure è un organico che già ti soddisfa? Ma è normale che qualcosina andrà fatto sicuramente perché le idee mie di gioco sono diverse rispetto all'allenatore che c'era prima, come giusto che sia, ogni allenatore ha la sua metodologia di allenamento e i suoi principi di gioco, quindi io... Modulo? Non lo so, devo ancora decidere, non lo so. Prettamente offensivo oppure da ex difensore magari più attenzione alla fase difensiva? Ma guarda, ti devo dire la sincera verità, io quando ho iniziato la carriera d'allenatore ai miei ragazzi, i miniori, ho detto guardate raga, io ho vent'anni che difendo, mi sono stufato. Sinceramente non mi piace attendere, giocare di rimessa. Io preferisco una squadra che gioca sempre in avanti, gioca sempre in verticale e speriamo di riportare questi concetti con questa squadra.